Top 11, giornata 32, è la prima volta per tanti nella speciale formazione, che torna ad essere guidata a distanza da diversi mesi dal mister del Foggia Mirko Cudini. Il trainer del Sartanelli ha riportato in un'area in zona playoff a suon di vittorie i rossoliri, impensabile fino a gennaio. Importa il giovanissimo del Sorbo del Sorrento, Mione in campo nel match dello Iacovoni di Taranto con i costieri e ha salvato i napoletani in almeno quattro occasioni. Retroguardia con l'ex Avelino Miceli al centro, ora a punto di riferimento del Mini One. Poi ancora il gol dei Foggiani, Ercolani e Riccardi. Il Foggia segna molto con la difesa e è piegato anche la Juve Stabia allo Zaccheria. Giù del pacchetto Armini del Potenza, che regala a Marchionni una vittoria importantissima nel derby lucano contro il Picerno. A centrocampo spazio al Leone della Juve Stabia, in gol a Foggia, l'MVP del campionato, fino a questo momento senza ombra di dubbio. Poi Calvano del Taranto gli ha dettato i tempi ed ha cambiato il modo di giocare del Mini One. E poi Zammarini, che toglie le cassegne dal fuoco, al Catania di Zeoli contro il Cerignola al Massimino. Patierno in attacco, un gol ogni ora per il camioniere di Bitonto dei Lupi. Segna Raffica nelle ultime settimane, la sua assenza si è sentita. Per la terza settimana di fila, confermato Lanini. A Benevento segna sempre e solo lui, e quando segna si fanno sempre punti in Castagio della Rossa. Chiude Montalto, anche lui tornato a bersaglio contro la Virtus Francavilla al Pinto e ha portato tre punti vitali in ottica post-season alla casertana di Cangelosi. Grazie. Grazie.